Alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Torino, il tecnico del Bari Giampiero Ventura torna a parlare della situazione in casa bianco-rossa e, quasi naturalmente, il terzo turno della manifestazione è passato in secondo piano, tranne che per il prevedibile turnover. 8-9-11 la formazione, se volete, cioè giochera Padelli, giochera Belmonte, Andrea Masiello, Rossi e uno, vediamo, uno fa, giocherà, vorrei far giocare un Alvarez che ha bisogno di ritrovarsi e quindi Alvarez, Pulsetti, Gazzi e un altro, un altro esterno che vediamo e davanti gioca Caputo e parte del Caputo e, se tutto va bene, Guttuzov che non ha giocato domenica. Ma poi il discorso scivola inevitabilmente sui tentenamenti del Bari e sulle possibili soluzioni, sulle quali il tecnico genovese, focalizzando l'attenzione sulla mentalità piuttosto che sull'atletismo, dimostra di avere le idee molto chiare. L'errore che commettono i giocatori, soprattutto quelli che vanno in campo come sono andati martedì, con la voglia di riprendere e di rifare, è quello di voler ricreare tutto quello che facevamo in due giorni, tre giorni, che non è possibile, assolutamente no, devi ricominciare, chiaramente impiegherai meno tempo, ma devi ricominciare da zero, perché devi ricominciare a riflettere sulle varie situazioni e di volta in volta, quindi ci vuole un minimo di tempo sotto questo aspetto, perché credo che questa sia la chiave e credo che sia anche la strada per loro, per ritornare, non a salvarsi, di cui non entro neanche in discussione, ma per ritornare a essere una squadra di cui si parla.